Signore e signori, buona domenica. Oggi facciamo una cosa internazionale, facciamo le ova di addina fatte alla coca. Abbiamo bisogno di due ova, il tegamino ci abbiamo messo un po' di acqua e poi andiamo ad arrumare lo gas. Accendere, va a arrumare lo stesso. Bene, mettiamo l'acqua sopra, le uova le mettiamo avvicinati dentro. Allora, il segreto dello chef per fare ottime uova alla coca. Appena l'acqua fa le prime bollicine, le prime bollicine, spegnete le uova sono pronte. Ci vediamo dopo. Vedete come sta cominciando a fribriare l'acqua, vedete? Ora un attimo minutino appena fare i primi bollori, ci spegniamo e andiamo a fare la prova dell'assaggio. Signore, le prime bolle cominciano a salire, le uova sono pronte. Adesso le scendo, ci metto l'acqua fredda e le tolgo subito dall'acqua calda, se no diventano dure. E ci vediamo dopo. Vedete come sta bollendo? Il primo bollore è arrivato, le uova sono pronte. E guarda, le nostre uova sono pronte ragazzi. Adesso vediamo se sono cotte, guardate che bellezza. Mamma mia, queste sono uova di casa. Uova che l'ha fatta la dina picciotta. Guarda, si sono cotte alla perfezione. Appena... Adesso andiamo a fare la prova dell'assaggio. Com'è? 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 Non non riusci. Non c'è che sudduce, non c'è che sudduce. Non c'è che sudduce, non c'è che sudduce. Guarda, 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 guarda. Che bellezza. Che bellezza. Ragazzi, e che mi dico qua? Un po' di sale. Un guaradello. Com'è, com'è? Una crema picciotta. Buona domenica a tutti. Guardate che bellezza. Ciao, buona domenica a tutti. Alla prossima. Ciao. Ciao.